Sono coinvolti oltre 3.000 ragazzi, 100 scuole della terraferma veneziana, tutti gli istituti professionali e tecnici di Mestre, quindi praticamente una grande famiglia, un grande successo di un'iniziativa che è unica nel suo genere a livello nazionale. Questi i numeri della 29esima edizione di Artigianato e Scuola, manifestazione organizzata dalla CGA di Mestre. Il tema scelto è stato quello delle nuove imprese. Quest'anno come tema abbiamo lanciato quello del fare impresa attraverso le start-up. Il messaggio lanciato agli studenti è che si deve scommettere su se stessi, che dopo la crisi nel mondo del lavoro è sempre più difficile entrare come dipendenti, ma che si possono percorrere altre vie. Il messaggio che abbiamo trasmesso ai ragazzi, ai 3.000 studenti che hanno partecipato a questa edizione, è quello di dire che nel mercato del lavoro si entra prevalentemente come lavoratori dipendenti, ma non è da escludere anche la possibilità di entrare nel mercato attraverso l'apertura di un'azienda, quindi diventare imprenditori di se stessi.